Cari amiche ed amici, qui una volta il vostro Sant'Incian, una volta ancora. Oggi ho appresso dalla tele che è iniziato il Festival di Sanremo. Oh, che maraviglia! Tutti gli anni lo stesso, tutti gli anni la stessa cosa. Io già nel mio canale di YouTube ho fatto dei video sull'argomento, che non me ne può strafottere di meno. Sempre i soliti conduttori, sempre i soliti cantanti, sempre i soliti temi, sempre le solite canzoncine rivoluzionarie del cacchio. Sanremo è una grande pillola, un grande barbiturico per far scordare temporaneamente agli italiani quali sono i veri problemi che gli affliggono. Sanremo è una droga, un oppio per il popolo, dove non nascono delle vere idee rivoluzionarie, come vogliono far credere, ma delle idee commerciali. Sanremo serve a far vendere, Sanremo serve a creare spazi pubblicitari, Sanremo è una merda. Come lo è anche il calcio spettacolo, che serve per atturdire le masse. Tutti gli encefalitici che non fanno altro che dedicare la loro intelligenza al calcio, senza per questo arrivare ad affrontare i problemi sociali del loro paese. Il calcio, la religione, Sanremo servono a distrarre la mente dei decerebrati, che di mente ne hanno poca, o non li hanno educati opportunamente a usarla. Perché? Perché ci ritroviamo con una scuola sempre più precarizzata, sempre più massificata, con aule piene, con più di 50-100 studenti. Quando invece i professori e i maestri, i pedagoghi, i docenti dovrebbero seguirli individualmente nel loro crescimento, nel loro sviluppo intellettuale ed emozionale. E tutta questa precarizzazione della scuola obbedisce al fatto che i governanti vogliono un popolo ignorante e massificato. Quindi la scuola è sempre più per le masse. Lo spettacolo è un fenomeno per le masse. Vi vogliono far credere che adesso è più facile pagare il canone. Costa di meno. Prima lo pagavi, perché avevi la tele e ti imponevano il canone. Adesso direttamente ti mettono il canone della televisione nella bolletta della luce. Quindi tu puoi essere carente di apparato televisivo, ma paghi il canone lo stesso. Esempio. Viene uno straniero in Italia e non compra il televisore. Ma paga il canone lo stesso perché c'è il servizio elettrico. E gli hotel e i ristoranti scaricheranno il canone della RAI sui conti dei loro clienti. Per esempio vai a mangiare in un ristorante che hanno la bolletta elettrica perché hanno un servizio di energia elettrica. Ebbene, in base alle dimensioni del terreno e del ristorante, pagheranno magari il canone RAI sull'immobile. Ecco, quei 100-200 euro poi li scaricheranno ai clienti. Quindi i clienti pagheranno un canone RAI che appartiene al servizio elettrico del ristorante senza peraltro che magari nel ristorante ci sia un solo televisore. Ci fanno credere invece che è più facile pagare il canone così. A me sembra una fregatura. Adesso è iniziato questo Sanremo e tutti a ripetere come degli encefalitici. Oh, Sanremo di qua. Oh, Sanremo di là. Ma basta. Adesso non puoi accendere la RAI che c'è Sanremo di qua. Sanremo di là, Sanremo su, Sanremo giù. In ogni programma ti faranno vedere quello che hanno fatto Sanremo. E veramente non se ne può più. Io non vedo l'ora che finisca. Non so voi, ma è così. Beh, adesso vi lascio e a risentirci. e grazie di seguirmi dal vostro San Ten Chan.